Buonasera, ben ritrovati in uno stato appuntamento con la voce delle istituzioni, ho il piacere di avere in studio Silvio Fauner che è assessore allo sport e al turismo del comune di Sappada, territorio che raggiungiamo, una bella terra per coloro che amano sia la stagione invernale sia la stagione estiva e parliamo con una persona che ha conoscenza delle cose sia perché è un noto sportivo sia perché ha ricevuto questa carica di assessore al turismo da poco, vero? Sì, una decina di giorni. Impegnativo in questo periodo di ripartenza? Sicuramente impegnativo, ma diciamo che tutte le cariche amministrative, io comunque vengo da un mondo che è completamente estraneo tutto quello che è la politica o l'amministrazione, quindi per me è un anno, in questo primo anno di esperienza io scopro tante cose nuove, vedo tante cose nuove, qualsiasi incarico è impegnativo se vuoi farlo al massimo livello, sicuramente l'incarico di un assessore al turismo in questo momento, in questo particolare momento storico è ancora più pesante e più gravoso. Diciamo che poi sport e turismo a Sappada vanno a braccetto da sempre. Sì, ma diciamo io l'ho sempre detto, ancora l'anno scorso quando mi è stato affidato l'incarico di assessorato al turismo che nella mia idea, nella mia visione, sport e turismo, ma non solo Sappada, ma dovunque debbano andare di pari passo sono due facce della stessa medaglia perché l'evento sportivo spesso e volentieri fa e deve fare la traino per tutto quello che è il movimento turistico. E viceversa, naturalmente, il turismo che può richiamare magari delle manifestazioni che si potrebbero fare da altre parti. Parliamo un pochino del Covid, voi siete nella regione Friuli Venezia Giulia, quindi ho poche informazioni che sono arrivate, ma penso che siano abbastanza simili. Ad esempio i contagi avete avuto una situazione pesante oppure no? No, allora noi fortunatamente possiamo non definirci un comune Covid free, Sì, ma quasi perché come tutte le nostre zone siamo stati blindati con i primi di marzo, per fortuna abbiamo avuto solamente 4 contagi, 4 l'ultimo, no 5 contagi, che però quasi tutta gente che veniva dall'esterno, dal di fuori. La cosa è stata contenuta subito in maniera molto brava, professionale, sia dall'amministrazione, dal sindaco, da tutto quello che... e quindi non possiamo definirci in un comune Covid free, come ho detto prima, perché 5 contagi ci sono stati, però 5 contagi è pochissima, su una popolazione di 1.350 abitanti. E voi avete anche una casa di riposo? No, noi non abbiamo casa di riposo, la casa di riposo più vicina è quella di Santo Stefano di Cadore. Adesso con la ripartenza come vi state organizzando? Naturalmente molti eventi saranno saltati. Ma molti eventi verranno saltati, verranno posticipati al prossimo anno, mi viene in mente uno degli eventi più grandi, che è l'Uploader Fest, che è organizzata dal gruppo folclorisco Hold Soccer, che è ormai una festa storica da metà agosto, 13, 14, 15, però proprio per questi problemi di gestione, di contenimento, hanno preferito posticipare la manifestazione al prossimo anno e saltando in anno, perché sono tutte quante associazioni che lo fanno per volontariato e quindi non sono strutturate per gestire un piano del genere in completa sicurezza. Sì, normative che già, quelle che ci sono, che sono complicate sulla sicurezza, sulla distribuzione di alimenti, si aggiungono anche queste. Che poi ogni giorno ne vediamo e ne leggiamo una nuova, una diversa, quindi diventa ancora più complicato. Senta, al di là della bellezza, sempre una passione incredibile per Sappada, però per chiamare i turisti bisogna organizzare qualcosa. Sì, diciamo che stiamo insieme al Consorzio di Promozione Turistica, stiamo pensando diverse cose, diverse iniziative. Allora partiamo dal presupposto che Sappada di default c'è il distanziamento automatico, perché questo non solo Sappada, ma in tutta la parte montana, in tutta la parte di montagna il distanziamento è automatico, quindi questo sicuramente è già un bel vantaggio. Dovrebbe favorire, naturalmente. Dovrebbe favorire rispetto ad altre situazioni. Ci stiamo organizzando, stiamo obbedendo di fare diverse cose, diverse iniziative. Una di queste che mi viene in mente è il ritroviamoci a Sappada, quindi daremo la possibilità alle famiglie che magari sparsi in giro per l'Italia, che non si sono viste, non hanno potuto vedersi per 4-5 mesi che si causa questo Covid, la possibilità di prenotare per una settimana, 10 giorni, 5 giorni, quello che vorranno, un'intera struttura alberghiera o di B&B e quindi farsi la vacanza completamente in famiglia, ritrovandosi tutti assieme nella massima sicurezza. Questo poi mi viene poi altre cose dove... Ma questa è interessante come iniziativa, che naturalmente vi ha visto collaborare con gli albergatori. Sì, in questo momento quello che stiamo cercando di fare, o meglio lo sto cercando di fare, è il creare più sinergia possibile in tutte le situazioni all'interno della comunità, quindi amministrazione, quindi consorzio, associazione, albergatori, proloco le varie associazioni per creare una sinergia, per creare un'unica struttura che lavori tutta assieme, tutta compatta per un unico obiettivo, quello di cercare di far crescere ancora di più Sapada. Una delle bellezze di Sapada sono queste borgate, peraltro con forte identità ognuna nei confronti dell'altra, c'è quasi una rivalità nell'essere più bella... No, 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 togliamo il quasi, c'è una rivalità direi abbastanza forte, però una rivalità sana. Sicuramente Sapada è conosciuta anche per, come ha detto lei, proprio per le sue bellezze delle sue borgate, per tutta la parte architettonica, non dobbiamo dimenticare che Sapada da tre anni è inserita nei borghi più belli d'Italia, due anni fa Sapada è stato il primo comune italiano a ricevere una certificazione europea, il primo comune italiano di località sostenibile. Sapada è anche bandiera arancione, quindi è tutto un insieme di citazioni, di certificazioni che danno a Sapada quel qualcosa in più per essere seguita, per essere visitata, per passarci delle giornate di vacanza assieme. Chi conosce Sapada, io ho tanti amici che non conoscevano Sapada, sono arrivati a Sapada, la prima cosa che mi hanno detto quando sono ritornati nel loro paese, potessimo scegliere, ci trasferiremo subito a Sapada. Sì, è una forte caratterizzazione di queste borgate, sono una decina, vero? Sono 14. 14, è una cosa di più. E per farle conoscere tutte, non è facile, è stata organizzata tempo fa una manifestazione che sono la Borgata in Festa? Sì, è una manifestazione che si chiamava Borgata in Festa, che si svolgeva praticamente in tre borgate, le tre borgate più caratteristiche, più vecchie, perché diciamo che Sapada nei primi 900 era tutta completamente come la parte vecchia, quindi con una parte, con strutture architettoniche, tutte fatte in una certa maniera, tutte in legno, poi purtroppo causa due grossi incendi nei primi 900, tutta la parte centrale è bruciata e quindi c'è tutta un'architettura nuova. e quindi verranno già nelle altre passate, sono ormai da credo una quindicina d'anni che lungo queste vie veniva organizzata questa manifestazione Sapada in Festa. In Festa. In Borgata in Festa. Quest'anno invece abbiamo deciso di cambiare un po', la faremo sempre comunque, periodo metà agosto, però abbiamo deciso di cambiare location e di spostarla in un'altra borgata che è completamente staccata da Sapada, che è Cima-Sapada, che è una delle borgate più, anche questa, più caratteristiche. È un piccolo borgo nel borgo che ha una bellezza incredibile. Sì, che poi è anche la porta di accesso alla Valsesis. La porta di accesso alla Valsesis e poi alle sorgenti del Piave. Esatto. Una località molto bella. Gli impianti, questa è sempre stata una pena per qualsiasi amministrazione. Bisogna dire che ci sono anche degli operatori commerciali che si sono presi carico di questi impianti. Però la situazione è ancora di stallo? Oppure c'è qualche novità? Avevo letto che la Friuli Investimenti o la Friuli Turismo voleva acquistarli per rinnovarli e magari anche potenziarli. Sì, ma allora diciamo che c'è tutto un progetto di promotorismo FWG per cercare di rilanciare tutta la parte di impiantistica. Come ha detto lei, gli impianti sono sempre stato un po' il nodo cruciale per la parte invernale di Sapata, però anche il nodo più difficile da affrontare. Purtroppo nel passare degli anni e negli anni si sono formate diverse società che poi hanno durato qualche anno finché non riuscivano più a sostenere le spese perché sappiamo che gli impianti hanno delle spese molto importanti. Dal passaggio nostro in Friuli si è creata questa situazione dove principalmente c'erano tre proprietari di tutti gli impianti uno era la Comunità Sapata che di su aveva l'impianto del Pian dei Nidi per intenderci quella zona sportiva, campo sportivo c'è la famiglia Queens che aveva tutta la zona dei campetti dove gran parte dei veneziani e tiriestini hanno imparato a sciare negli anni e poi la società GTS che è formata da soci di Sapata e due o tre soci non Sapadini che hanno all'epoca nell'ultimo fallimento hanno rilevato il resto delle impianti quindi Sapata 2000, Pista Nera e Montesiera. Cosa è successo? È successo che l'amministrazione, il Comune di Sapata ha ceduto a Promoturismo FWG il suo impianto e quindi quello è passato di proprietà e di gestione regionale la famiglia Queens ha ceduto il suo impianto quello dei campetti quindi anche quello è passato sempre nella stessa gestione stanno ancora lavorando per trovare un accordo con GTS perché GTS ceda anche lei, ceda, venda i suoi impianti anche lei a Promoturismo per quanto riguarda il passato inverno c'è stata una gestione completamente di Promoturismo quindi Promoturismo ha gestito i suoi due impianti ma ha gestito anche gli impianti degli altri E senti una cosa, una delle problematiche molto sentite in questo periodo per la stagione invernale e per lo sport per lo sci alpino è quello dei caroselli scistici c'è qualche idea di collegamento se è possibile? Mi pare che sia molto complicato Ma allora è sicuramente molto complicato perché Sapata nella sua bellezza a mio avviso è anche molto limitata nello sviluppo di impiantistiche Allora ci sono delle visioni in generale fatte magari anche con Promoturismo o fatte anche nel passato di sviluppo di nuovi impianti però sempre comunque all'interno della località perché l'impianto più vicino da Sapata l'impianto più vicino lo troviamo a Padola di Cadore a Padola di Comelico quindi un po' distantino senza grandi sviluppi nella parte friulana arriviamo anche lì a 20-25 km arriviamo sullo Zoncolan anche lì con poca possibilità di sviluppo quindi per quanto riguarda gli impianti c'è la possibilità a mio avviso di sviluppare però comunque purtroppo restando all'interno della località e senza avere la possibilità di creare questi grandi caroselli che vediamo in altre località Senta lei ha avuto un trascorso come atleta dello sci di fondo medagliato quindi probabilmente avrà molto a cuore anche questo grandissimo e bellissimo spazio che può essere identificato come stadio del fondo per l'estate che cosa ci si può inventare per fare in modo che possa tornare utile a parte la bellezza la possibilità di camminare di andare in bicicletta ma c'è qualche idea? Ma adesso ci stiamo pensando ci stiamo ragionando noi abbiamo la fortuna che nel 2023 Sapata verranno organizzati gli A-Off che sono le Olimpiadi Giovanili Europee che raggruppano 13 discipline e a Sapata è stata individuata dalla regione Friuli come location per quanto riguarda lo sci di fondo Sapata è comunque anche ricordata a livello turistico per tutte le imprese che sono state fatte per tutte le medagli che sono state vinte non è facilissimo trovare un paese di 1300 abitanti con dieci medaglie olimpiche di tre discipline diverse quindi diciamo che questo ci rende un po' orgogliosi di questo e quindi nel 2023 verrà organizzata questa manifestazione dove andremo per allora ci sarà la necessità di sviluppare tutta una parte di infrastruttura a livello di stadio dello sci nordico ma quello che stiamo cercando di ragionare di vedere che non sia solamente una struttura fatta esclusivamente per lo sci nordico fatta esclusivamente per i 4-5 mesi invernali ma che sia una struttura su fruibile 365 giorni all'anno e poi il prossimo anno nel 2021 ospiterete anche gli Special Olympics che avevate già ospitato precedentemente sì li abbiamo ospitati nel mese di febbraio di quest'anno lo Special Olympics andremo a riospitarli il prossimo anno lo Special Olympics è questa organizzazione mondiale che è creata per permettere a chi è meno fortunato di noi tutti i ragazzi o persone che hanno disabilità psichiche la possibilità di fare sport abbiamo organizzato l'anno scorso la prima edizione di Sepada di Special Olympics invernali con 5 discipline per me sinceramente è stato un evento non solo a me ma anche a tutta la popolazione che ha lasciato molto vedere questi ragazzi che si confrontavano tra di loro che gareggiavano tra di loro e che poi gioivano sul podio magari per quello che è arrivato prima di loro è veramente una cosa eccezionale spirito sportivo esatto ai massimi livelli che ci vorrebbe un po' di più anche magari in qualche situazione di professionismo allora siamo abbiamo isolito il tempo alla nostra disposizione siamo stati con Silvio Fauner assessore allo sport e al turismo del comune di Sepada a qualche occasione per salutare gli abitanti che peraltro seguono la nostra trasmissione da sempre buon lavoro a lei buona stagione turistica mi invito naturalmente a frequentare questa vallata dalle terze Montesiera i club i laghi d'olbe chi più ne ha più ne metta è uno spettacolo la merita davvero di essere visitata prego un'ultima cosa collegandomi a quello che vi ho detto prima sul turismo visto che come ho detto sono dieci giorni che sono assessore al turismo Sapada ha diverse iniziative stiamo vedendo un grandissimo riscontro perché per quanto riguarda la parte estiva il mese di luglio il mese di agosto al momento a livello di appartamenti B&B vediamo già quasi tutto esaurito quindi questo sicuramente promette molto bene mi fa piacere per voi grazie a Fauner grazie a voi per averci seguito buona serata grazie a tutti grazie a tutti